Che brutta situazione. Non è la prima volta che ne affronto di questo genere, ma questa è decisamente più grave del solito. Rismi è riuscito ad incastrarmi per bene a sto giro, non riesco a liberarmi da queste maledette corde. Vi state chiedendo chi è Rismi? Vi siete mai chiesti come mai le sveglie al mattino non suonano? Beh, Rismi è il responsabile di questo fenomeno e io ho deciso di combatterlo. Feci la sua conoscenza già ai tempi delle scuole medie, da ragazzino. All'inizio ne ero spaventato, poi però l'incontro con quella maga mi diede la forza di combatterlo. Ricordo ancora le sue parole. Interessante questa carta. Vedo che nel tuo futuro qualcosa sta cambiando. Qualcosa in effetti cambiò. Grazie Davis. Il mio costume è perfetto. Tira giusto un po' qua dietro. Ah, non ti preoccupare Herman, col tempo il vestito si adatterà al tuo corpo. Tempo al tessuto di adattarsi. Mi punge. Seduto così mi dà ancora più fastidio. Ma cosa diavolo... Grazie Davis. Anche stavolta sono riuscito a mandare in fumo i piani di Rismi. Ma se ribecco Davis... Ma se ribecco Davis... Il costume è perfetto. Mi tira giusto un po' qua dietro. Beh, non ti preoccupare... Non ti preoccupare... Ma se ribec... Se ribec... Se ribec... Se ribec... Ma se ribec... Grazie.